C'è stata mai una situazione in cui hai avuto veramente paura e sei riuscito a trasformare questa energia? Perché di fatto la paura è energia in invece una risorsa per superare la sfida, superare la paura e andare oltre. No, paura no, anche perché scendi sott'acqua e hai paura, sott'acqua non ci vai, magari non ti rendi conto che hai paura, ti fermi prima e dici va avevo particolarmente freddo, ero debole, un'altra volta scendi poi ti giri prima del punto d'arrivo perché dici va avevo problemi di compensazione, poi alla fine ti metti la sera, guardi il mare da solo, ti guardi dentro e dici va probabilmente c'è qualcosa che non va e quella potrebbe essere la paura. Io credo di non aver mai avuto paura, non perché io sia, come dire, coraggioso, se volete vi do il contatto del mio dentista che vi spiegherà che io sono tutto forché un coraggioso, quindi per andare sott'acqua non bisogna essere coraggioso, ma semplicemente devi lavorare molto umilmente sulle tue capacità, devi rispettare moltissimo il mare e soprattutto questa fiducia, questa forza e sicurezza te la danno gli uomini che sono disposti in acqua e sai che sono lì pronti a intervenire nel caso in cui tu ne abbia bisogno, quindi anche questo ti aiuta a togliere potenzialmente l'idea di paura che ti limiterebbe un sacco, quindi ecco non devi assolutamente aver paura perché altrimenti sott'acqua non vai, non credo aver mai avuto paura, ho avuto amici, c'erano gare, comunque anche dei rivali così che da un anno all'altro hanno smesso completamente perché non si sentivano più tranquilli, rassicurati, non erano più, iniziavano ad avere, c'era qualcosa che entrava in loro dal momento in cui iniziavano ad andare fondi e questo può arrivare, nel mio caso non è mai arrivato, ho smesso con un record, quindi se stabilisci un record vuol dire che sei tranquilli in acqua, però ripeto, sei tranquilli in acqua perché ci sono delle persone che ti permettono di andare in acqua, di scendere a quelle quote, di essere concentrato al 100% sul tuo obiettivo, perché sai che nel momento in cui dovessi avere un problema sono lì pronti a intervenire e in totale sicurezza mi rispediscono in superficie, quindi ecco questo ti aiuta e considera che io in 12 anni non ho mai chiamato l'emergenza, questo per dirti come si arrivava ben pronti ad ogni record, ad ogni tentativo, magari simulavamo l'emergenza, facevamo dei tuffi fondi di allenamento, poi ne rifacevo altri dove davo il segnale d'emergenza e allenavi il sommostratore a intervenire su di te con la manovra di sicurezza, però ecco sono state tutte delle simulazioni per allenare loro, ma non perché in situazioni reali ne abbiano avuto bisogno, questo dipende anche da come lavori, l'organizzazione, la pianificazione, l'intervento, le idee, poche idee ma tutte molto chiare, questo è fondamentale non solo nell'andare sott'acqua ma anche in un progetto normale di quotidianità.